BELLA A TUTTI DA PORKMODZ 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 andare ad un altro giretto regà un altro solo e poi facciamo spawnare le rampette guardate che spettacolo adesso si guida da dio che l'ho modificata regà non so cos'è cambiato sinceramente poi facciamo pure la facciamo andare alla massima velocità anche ok suini eccoli qua gli oggetti che ho aggiunto ai preferiti qua c'è un bel wall ride che lo mettiamo per adesso qua si mettiamolo qua per adesso questo wall ride poi c'è la rampetta che mettiamo anche questa qui per adesso poi cos'altro ci può servire per divertirci questi qua per fare una mini gara parkour va bene e poi questo qui che mi serve per fare il gp si regà no forse era un altro ah questa è pure un'altra rampetta che mi serve aspettate regà che ci dobbiamo allontanare se no non entra più niente poi ci dovrebbe essere la spirale eccola qui questa la facciamo subito regà proprio immediatamente e ce n'è pure un'altra facciamo il continuo regà vediamo un po' è un po' difficile posizionare questi pezzi perché non sono proprio abituato regà ah questo qui mi serve per il gp questo cos'è invece? ah la mega rampa la mega rampa mi ero scordato eh sì per adesso mettiamola qua perfetto così andiamo a provare tutto ok regà eccoci qua oddio 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 facciamo attenzione regà la macchina spero che non si distrugge ho messo il coso che si autoripara spero di sì allora vogliamo provare subito una bella spirale vediamo come viene con questa micro auto allora ok la rampetta è messa bene qui via 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 vai sui oh mio dio no regà un po' più veloce mi serve il turbo regà mettiamo il turbo quando facciamo la spirale ok o se no dobbiamo prendere leggermente un po' più di velocità no non manda su due ruote ok è molto stabile però quando comincia ad andare su due ruote regà è la fine però cerchiamo di partire da qua se ce la faccio ecco la tastiera perché è difficile suonare il clacson e poi girare oh no regà che è successo non ci ho capito niente aspettate devo ritornare là oh aspettate passiamo sotto a questo andiamo 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 passiamo anche sotto a questo regà no 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 non ce la fa qua allora rifacciamo la spirale quella credo che sia un po' difficile eh non è così facile ma questa credo che sia fattibile molto semplice no perché perde potenza aspettate un attimo va troppo lenta regà allora per farla andare un po' più veloce mi ricordavo che c'era una cosa da mettere ok da qui si può aumentare la velocità della macchina quindi la mettiamo un 50% in più dovrebbe bastare se no dopo è troppo esagerato regà si va bene così qui regà usciamo perfetto rimettiamoci bene con la nostra ray 7b in miniatura andiamo 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 eh regà adesso corre adesso non scherza guardate già quanto corre più veloce di prima tantissimo e poi mettiamo anche il 200% regà oh mio dio come ho girato ok ritorniamo là regà no cosa ho fatto regà non si sa allora rimettiti bene ray 7b perfetto così allora no 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 ah regà scusate se non si vedrà proprio al massimo di come vedo io perché ho scaricato da poco bs ancora sinceramente non ho capito come funziona il programma quindi il prossimo video sarà ancora più in HD state tranquilli allora adesso noi dobbiamo fare questa spirale vediamo se ce la facciamo stavolta eh allora vai sui mettiti bene è l'unico problema regà se ho il joystick non lo correrò più uuuuh grande sui non è proprio completata però c'eravamo quasi regà allora vai vai rimettiti bene perfetto così e rientiamo ah regà andiamo a provare il wallride ma credo che con il wallride oddio 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 serve il turbo se no non viene regà allora ci proviamo ci vogliamo provare regà allora prima cosa ci mettiamo qua se no c'è il rischio che facciamo un flip è così regà che ne dite no aspettate proprio delicato ok vai regà via no 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 dobbiamo rifarlo subito regà ah regà voi ditemi voi cosa volete che faccio con queste micro auto ok che io posso fare di tutto tanto allora andiamo proviamo un'altra volta il wallride regà aspettate ok non so se devo andare così veloce alla fine vai vai no no quasi regà eh serve il turbo mi sa eh per forza il turbo allora eccoci di nuovo qua vediamo un po' se ce la facciamo premio il turbo via regà questo è benissimo eh proprio bene bene ok sono soddisfatto però adesso andiamo a fare questa bella mega rampa allora andiamo 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 uh ok eccoci di nuovo qua eh non è che va veloce di più allora senza turbo eh senza turbo già va veloce regà oh mio dio oh mio dio guardate che roba regà faccio pure qualche trick girate dai 7b girate si 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 oh no regà purtroppo c'è il problema che è un po' come il dune regà ma che sta a fa' allora rimettiti bene ok ah regà aspettate facciamo un'altra cosetta andiamo a modificare un altro po' il motore ah già pronto regà perfetto mettiamo a 200 ok chiudiamo il mod menu e andiamo via 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 mio dio regà sto a volare sto a volare aspettate aspettate ok ci dobbiamo mettere un bel rettilineo che non solo vado dritto aspettate solo dritto non è bello bisogna pure premere il turbo mentre si va dritti oh mio dio regà spicchiamo il volo no no regà sta a volare sta a volare sta volando la reset che spettacolo aspettate dove va io rimango fermo così regà ah no 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 vai 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 andiamo oh mio dio regà no che è successo no dove sto no la macchinetta mia regà dove è finita pensa che c'ho franklin invisibile a piedi eh si credo di si allora adesso regà ci andiamo a costruire un bel gp e poi per concludere il video proviamo le altre macchine e poi scappiamo anche dalla polizia quando abbiamo 5 stelle ah ok regà intanto spawniamo una bella Tyrus si eccola qui guardate che spettacolo aspettate che la modifico perché così non mi piace allora si modificava da qua ci mettiamo una bella verniciatura oppure la facciamo color crew ok dove sta paint eccolo qui regà guardate primari color si chiama trippy green praticamente il colore da crew ma questo era già inserito il mod menu regà è uguale non cambia niente ok eccoci qua regà allora chiudiamo tutto andiamoci a fare un bel giretto con la nostra Tyrus eh regà la Tyrus non si porta così male eh per niente anzi è molto carina regà spettacolare però il gp l'andiamo a costruire per di qua che ne dite qua sotto regà qua sotto mi sembra abbastanza carino credo di si costruiamo qua intanto parcheggiamo qua la nostra Tyrus ok regà allora per costruire la mini gara gp ah no 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 non so questi pezzi scusate quelli che mi sono salvato sono questi ecco non la faccio precisissima eh perché poi costruire qua dentro non è così facile allora aspettate un secondo la facciamo no proprio piccolina eh ok io direi di iniziare da qui e fare tipo tutta la curvetta che ne dite sto a costruire col mouse e tastiera magari con l'analogico ero più preciso ok vediamo che circuito viene fuori eh ne sto facendo uno a caso ok tipo facciamo poi calcolate che non è che sta la gha è che si impiccia un pochetto la visuale ok andiamo no 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 eh raga è molto difficile costruire con questo eh perché questi sono andati qua raga l'ho messi così male poi aspettate un altro qui e un altro qui vai facciamo così 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 sta venendo fuori un gp abbastanza brutto però raga ci dobbiamo accontentare di questo eh allora ok io non so nemmeno che gara è comunque come la posso chiudere questa gara vabbè aspettate un attimo qua 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 possiamo fare no non c'ho me allora aspettate la macchina passa qua andiamo per di qua poi possiamo andare così così facciamo tutto il giro e poi ritorniamo si regala facciamo abbastanza tranquilla dai ok facciamo tutto così un piccolo circuito regala cioè praticamente è quasi un cerchio però che non è un cerchio eh però conviene avvicinarsi qua eh ok andiamo 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 che è successo sparito quello ok andiamo ancora regà vai 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 mettiamo un altro un altro ancora ok dai regà abbiamo quasi fatto eh proprio quasi allora vediamo dall'alto come sta avvenire sta pista sta avvenire proprio male no regà aspettate allora ok ok eh regà per costruirla bene io sono lento a creare sono uno che pensa tanto uno che fa un circuito o qualcosa così è proprio per provarla un secondo ma niente di che proprio un bel girettino qua che è molto carino aspettate che sto concentrato a chiudere la pista ok che ne dite potrebbe andare questo mini circuito io credo di sì proviamo ok suini da dove si entra da qua si 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 andiamo oddio salta pure questo allora regà andiamo piano piano eh oh però è carino regà non è così brutto sto gp in miniatura l'unica cosa è che guidare con la tastiera è orribile cioè non è malissimo perché alcuna gente cioè certa gente è molto brava regà guida pure con la tastiera però è un po' scomoda diciamo agli inizi però si può guidare anche bene con la tastiera poi soprattutto sta macchina regà andiamo un po' più veloci regà via 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 e poi girare la visuale col mouse non sono abituato vai 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 andiamo regà veloci veloci no 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 aspettate provo a fare un giro un po' più veloce però vorrei provare la re 7b in questo circuito ok regà facciamo spawnare tipo qualche re 7b eh guardate che belle che belle guardate quante sono io ho questa grigia guardate che belle no l'ho distrutta questa andiamo a vedere no regà sono fantastiche oddio no 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 questa è meglio mi sa eh la re 7b l'unico problema è che se avevo il joystick potevo dosare di più l'acceleratore invece così è scattoso praticamente pure quando giro è scattoso però regà alla fine ce la sto a fa no oddio che io no l'ho ucciso regà ora si incavola con me aspettate e che fa come come può farmi del male lui guardalo come mi indica la sua e te dico proprio questo mamma mia allora aspettate un attimo devo andare di nuovo nel giro artalus si è infuriato però non mi fa niente eh credo che non mi può fare niente giusto eh c'hai pure paura c'hai pure paura allora rientriamo in pista regà vai 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 sui vai 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 che dobbiamo fare un bel giro regà dobbiamo fare il record mondiale no così non lo faremo mai eh se uno vuole andare leggermente più veloce in questa micropista regà è impossibile proprio impossibile impossibile comunque diciamo che tra queste tre la mia preferita è la re 7b ma anche su gta mi piace tantissimo in confronto alla tirus vi devo far vedere l'altra l'omnisis si chiama però che belle tutte parcheggiate così regà non so uno spettacolo vi ricordo ancora di consigliarmi tutto quello che volete vedere con queste macchine se volete che faccio macchine in miniatura contro qualcos'altro regà lts no non esistono magari se vogliono vai lts allora regà abbiamo provato tutto di queste rampette diciamo di si diciamo proprio di si adesso diciamo che ci manca oddio ci manca solo scappare dalla polizia e poi possiamo anche concludere il video che non so quanto sta a durare perché mi sta a divertire troppo regà sta mod è assurda proprio stupenda allora io direi di andare in città puoi metterci 5 stelle e puoi scappare che ne dite però ovviamente modifico di nuovo l'auto la metto verde e metto le sospensioni il motore quello che mi serviva ah suini non vi ho fatto vedere una cosa comunque aspettate un secondo che devo mettere la verniciatura eccola qui perfetto ah ecco qua neon guardate quanto sono belli in caso metto un attimo notte così ve li faccio vedere se no non si vede niente allora come l'ha selezionati viola tipo ok regà andiamo su tempo e mettiamo che è notte ah no no scusate è bloccato mettiamo che è notte ok oh come sono sti neon però sono troppo belli regà troppo troppo che figo no regà spettacolari sossi neon miniatura ok basta così adesso rimettiamo di nuovo giorno perché non mi va di giocare di notte riblocchiamo il tempo e adesso regà dobbiamo mettere 5 stelle ok vai 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 regà subito 5 stelle così adesso dobbiamo proprio fuggire allora vediamo un po' l'elicotteri stanno arrivando per una macchinetta telecomandata regà tutto questo casino e credo di sì oh guarda lì come sparano devo fuggire via 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 pure il turbo no 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 fermate fermate sui ok peccato regà che non c'è il suino proprio in miniatura ma penso che lo metteranno tutto quello che ne rente in miniatura se volete ve lo porto perché io non è che sto appassionato di più allora andiamo come l'ho schivata regà allora oh oh polizia vediamo un po' che mi fa regà tipo mi dovrebbe andare a sbattere giusto vediamo un po' vediamo un po' oh no 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 non mi schiacciate non mi schiacciate aspettate un attimo oh no vabbè che non mi possono uccidere che ho messo l'immortalità sì allora rimettiamoci bene eh però l'obiettivo mio sarebbe scappare giusto regà quindi andiamo uh no 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 di questo passo non scapperò mai allora rimettiti bene re 7b no 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 andiamo vi devo pure far vedere l'altra macchinetta in miniatura via 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 se riesco a schivare queste 5 stelle regà non so se ci riesco comunque la macchinetta va abbastanza veloce comunque no 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 eh regà basta che non mi succedono queste cose e ce la potrei fare eh oh mio dio la polizia allora andiamo ok no 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 quello ok pensavo che già l'avevo seminati ma invece non è così no 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 regà bisogna stare veramente guarda lì che mi vengono pure addosso sono piccolo piccolo io non se ne rendono conto regà allora guarda si è scesi pure con la macchina no 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 oh regà è diventata ingestibile la situazione io ve saluto andiamo regà voliamo forse è la miglior cosa per seminare queste 5 stelle vediamo un po' vediamo un po' se c'è si regà ci stiamo riuscendo ci stiamo riuscendo noi rimaniamo qua in alto non ce ne frega niente dobbiamo seminare queste 5 stelle immediatamente no 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 sui continua ad andare su te ok no 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 oddio oddio no 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 vai via sui c'è la polizia no la polizia dai schiva sta polizia quanto ce vuole regà quanto ce vuole io non so neanche io come sto andando avanti no 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 mi beccano mi beccano regà mi beccano semino sto polizia no mi hanno visto mannaccia loro come faccio come posso fare regà allora intanto andiamo giù che è pronto un casino calibrare l'auto guarda al volo l'ho preso andiamo no 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 aspettate eh questi ce oddio sono impennata regà si andiamo andiamo ah forse ho capito come seminarli aspettate noi dobbiamo andare qui e mettere 200 regà per forza se no non si semina la polizia ok così dovrebbe andare bene per fortuna che anti oh mio dio a 200 vi ho già fatto vedere quanto va veloce credo di no dunque andiamo 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 mio dio va troppo veloce troppo regà oh che sta a fa ok ti puoi anche fermare le 7b eh con calma intanto mi avrebbero ucciso no regà oh bellissimo sto trick il problema avete visto tanto scatta no ok piano 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 cerchiamo di andare piano e poi g ah ok qua pure turbo no li potevo schivare regà cioè ci riesco aspettate no no perché l'ho schivati dai sui no 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 rimettiti bene il car boosting regà non funziona con quest'auto ve lo dico subito andiamo 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 passiamo qui perfetto oddio che visuale era ma forse dobbiamo andare per i piccoletti no dentro i cassonetti aspettate regà eh mi sa che è troppo difficile schivare la polizia eh cioè se c'è il joystick forse ce la faceva ma dico forse no no regà eh regà non credo che riesca a completare la sfida a meno che non voliamo di nuovo via 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 eh regà però bisogna volare al momento giusto non è che si vola così eh dai 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 ce la facciamo non termino il video finchè non semino questa polizia no 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 regà aspettate aspettate non per ti qua perfetto vai andiamo 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 ah regà via 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 prendi il turbo via vai così vai così no non ritornare qua sui no sono ritornato allo stesso punto di prima regà non è possibile non è possibile allora andiamo in autostrada eh regà è ingestibile va troppo veloce troppo 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 non ce la faccio oh mio dio è troppo troppo difficile basta schiacciarmi basta allora andiamo no pura macchina da polizia dai fatemi passare ok vai vai turbo 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 no si no si 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 vola per di qua sui è uguale se vai in acqua l'importante è che semi la polizia la semina la semina regà seminerà la polizia ok andiamo per di qua perfetto così e invece stavolta la seminiamo regà così non credo che mi raggiungono allora aspettiamo noi aspettiamo no l'elicottero io vado sopra regà vi saluto a tutti quanti ma io vado sopra quanto siamo alti mamma mia è qui voglio vedere se non seminare la polizia regà mamma mia per forza la devo seminare forza andiamo pure al massimo della mappa non so come ho fatto a mettere la macchina così che va dritta vi giuro guardate il mondo sta diventando tutto tondo che succede dai 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 voglio schivare sta polizia la devo schivare dai regà sto ancora a volare sta polizia o è bacchiata col mod menu che non sparisce più quando metti 5 stelle ah ma forse perché l'ho selezionato io regà a parte me lo sto fermo in aria qua nessuno mi trova lì c'è un elicottero ah no sto cadendo giù oppure no regà me lo dite voi forse sto cascando giù comunque è impossibile completare questa sfida perché non non scalano le stelle regà ci ho provato però non vanno giù no regà invece sì forse su pc le 5 stelle della polizia durano tipo mezz'ora prima che se ne va via perché quanto è passato tantissimo ma io non riesco a capire se stiamo a casca o stiamo fermi intanto andiamo all'aeroporto o in città a provare l'ultima macchina e poi stacchiamo regà allora eccoci qua adesso regà facciamo spawnare l'ultima macchina che non vi ho fatto vedere andiamo qui omnisis no ah no aspettate ok rossa va bene va bene così regà è bellissima anche questa però oddio magari è meglio levare l'alta velocità eh allora regà uh aspettate aspettate che il suino qua è piccolino stavolta in miniatura andiamo qua vai 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 che spettacolo regà oh che è successo vai avanti no non ci passa qui no mi si è incastrata la macchina levate camion aspettate il turbo via 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 turbo 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 dove sto dove sto ok ok suini per uh per concludere il video questa bellissima impennata proprio favolosa entriamo all'amunation dai 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 eh sali ok andiamo i gradini ce la dovrebbe fare eh eh se non ce la fa coi gradini ce la fa con la forza tu vai qua macchina ok allora andiamo no no io scappo mi dispiace ma devo fuggire dentro il tuo amunation non c'è niente di che regà c'è da fare solo un bel gp qua in miniatura che neanche passa sotto la panchina regà comunque sia il video può anche finire qua se vi è piaciuta questa mod di queste macchine telecomandate lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale si vedevi su instagram saluti questi suini bella ciao 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 Grazie a tutti.